L'idea del progetto Erasmico nasce nel marzo del 2015, quando, partecipando al corso di cittadinanza cooperativa organizzato da Scuola Co, abbiamo iniziato a lavorare in un progetto che rappresentasse la nostra idea di cittadinanza cooperativa. All'inizio non riuscivamo a trovare l'idea giusta, fino a quando qualcuno non ha parlato di Europa. L'idea di lavorare sulla cittadinanza cooperativa europea ha subito creato entusiasmo all'interno del gruppo, ma anche qualche dubbio. Si tratta di pura utopia? Qualcun altro potrebbe credere a questo progetto? Allora abbiamo cercato risposte tra gli amici della cooperazione. Certo, probabilmente oggi bisogna confrontarsi con temi, persone, mondi, culture molto più grandi di un tempo, banalmente perché il mondo è diventato più grande. Per avere visione bisogna viaggiare, per avere visione bisogna ascoltare, per avere visione bisogna sostare di fronte a qualcosa che ti sollecita. Da questo punto di vista lo studio non è semplicemente leggere libri, è farsi penetrare delle cose da avere il tempo sufficiente che queste cose prendano forma dentro di te. Ma allora si può fare? Le cooperative di tutti i paesi europei potrebbero scambiarsi persone e tramite loro condividere esperienze, professionalità e buone pratiche. In questo modo si creerebbe un network europeo di formazione che permetterebbe a chi lavora nelle cooperative di trascorrere qualche mese all'estero e di fare un'esperienza unica. Per fare tutto questo però abbiamo bisogno di alleati. Che partner possiamo avere in questa avventura? Prima di tutti Scuola Cop, perché è il luogo dove tutto è nato e perché la formazione è il fulcro del nostro progetto, ma ci servono anche altri alleati nel resto d'Europa. Cominciamo a pensarci e scopriamo che i partner potrebbero essere molti. È proprio questa l'Europa che ci piace, quella che mette insieme popolazioni diverse senza confini. Ma tutto questo cosa vuol dire concretamente? Immaginiamoci qualcuno che lavora in cooperativa e che desidera fare un'esperienza formativa all'estero che possa crescere le sue competenze professionali. Si candida a partecipare al progetto Erasmico e, quando viene selezionato, decide insieme ai suoi responsabili in quale cooperativa realizzare l'esperienza formativa. Prima di partire, se ne ha bisogno, seguirà un corso di lingua e poi, finalmente, partirà. Una volta arrivato nel paese scelto come destinazione, seguirà un corso di formazione che lo preparerà alla vita nella nuova cooperativa e nel nuovo paese. Nei mesi successivi, lavorerà nella cooperativa che ha scelto, seguito e guidato da un tutor, che lo aiuterà anche nella vita extralavorativa. Alla fine, tornerà in Italia e condividerà la propria esperienza con i colleghi di cooperativa. E allora, perché Erasmico? Perché crediamo che solo le persone possano fare la cultura di un luogo e che l'Europa sia il luogo giusto in cui coltivare, giorno dopo giorno, la nostra cittadinanza cooperativa. Alla fine, tornerà in Italia.